I frati usavano la Natività ogni anno per allestire il presepe nella parrocchia di Sant'Antonio, a Lanciano, inconsapevoli però di avere tra le mani un tesoro. Fino a quando padre Damiano, riordinando la biblioteca, si lasciò incuriosire da tre bauli impolverati in una stanza che si rivela una vera e propria Wunderkammer. 145 statuette in legno dipinto di pregiata fattura sono i pastori antinori, realizzati nel Seicento per la nobile famiglia aquilana. Dopo anni di catalogazione e studi, una piccola parte del presepe è stata allestita in mostra al Polo Museale Santo Spirito, curata da Lucia Arbace, soprintendente dei beni artistici d'Abruzzo. È comunque un'arte che si fa comprendere, si fa amare ed ha un valore universale. Quella della tradizione del presepe napoletano, o anche amato in tutto il mondo, ci sono collezionisti ovunque che amano questa tradizione e ancora oggi tantissimi appassionati e anche un'attività a Napoli in particolare, ma non solo, che riprende gli stilemi della tradizione antica e li rivisita aggiornandoli alla contemporaneità. Quindi è un'arte appunto che ha un valore che supera il tempo. Poi noi come soprintendenza naturalmente cerchiamo anche di far superare il tempo a questi pastori che hanno subito purtroppo dei danni, perché dal Seicento ad oggi hanno avuto degli attacchi di tarli, le vesti si sono logorate e quindi adesso abbiamo anche la soddisfazione di poter comunicare a Lanciano, ma non solo, che abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dei beni dell'attività culturale e del turismo per restaurare un primo lotto di 18 esemplari. La notevole valenza artistica di questo presepe, ormai acclarata dalla critica, rafforza l'identità per la città di Lanciano, città del presepe. Dopo il lungo sonno i pastori antinori riprendono il cammino in attesa di riacquisire il loro originario splendore. Ancora grande l'emozione nell'autore della riscoperta. La prima reazione è stata di stupore, di meraviglia, e poi guardando in particolare questi visi così belli, così caratterizzati, uno diverso dall'altro, ho sentito il bisogno di tirarli fuori per far prendere un pochettino d'aria dopo tanto tempo di prigionia. E così ci siamo resi conto di questo tesoro che avevamo ma di cui non avevamo consapevolezza. La mostra resterà aperta fino al 12 gennaio. L'auspicio è che altri committenti pubblici e privati possano seguire l'esempio dei bus e contribuire a risanare l'intera collezione, adottando gli altri pastori che costituiscono la preziosa raccolta per la quale è in corso di definizione la procedura di riconoscimento di interesse culturale. Grazie. Grazie. Grazie.